Pasquale Fortunatamente lui ha premiato la mia giocata e lui ha valorizzato il mio assist Quindi felici tutti per i risultati e per la giocata Ma che complicità c'è tra te e Antenucci? Giocare con Mirko è molto semplice Lui è un giocatore di una categoria superiore Ormai ha dimostrato con i fatti, con i gol che la Serie B la può fare tranquillamente In una serenità allucinante Si vede che si carica delle responsabilità, la squadra lo cerca nei momenti di difficoltà E lui non si tira mai indietro Merito a lui e alla squadra che continua a dargli fiducia perché lui risponde con i fatti Poi abbiamo detto il primo giorno che la SPAL con l'investimento di Antenucci Ha richiamato l'attenzione di tanti altri giocatori Ha richiamato l'attenzione della maggior parte delle squadre di Serie B Quindi è stata brava la società a credere su di lui E lui è stato bravo a credere nella SPAL Che segnale avete dato voi come squadra al campionato dopo la vittoria in rimonta Contro un Trapani che era esplosivo e molto ben messo in campo? Noi abbiamo dato un messaggio chiaro che la SPAL c'è La SPAL dà continuità, la SPAL ha voglia di stupire La SPAL ha voglia di correre più degli altri Di lottare su ogni pallone Ma soprattutto ha voglia di dimostrare il valore del suo gruppo, del suo gioco Quindi partita dopo partita ci stiamo riuscendo E andiamo avanti a testa alta con la consapevolezza che mancano meno partite Ci stiamo giocando qualcosa di importante Che partita sarà invece per te a Latina sabato, visto che ritorni da ex? Sicuramente guarda, in questo momento i sentimenti li metto un attimo da parte Anche se sono stato bene lì a Latina e ho tanti amici Ma ho bisogno di correre per la SPAL, di far bene per la SPAL e ottenere i punti per la SPAL Ti ripeto, i sentimenti in questo momento contano poco Conta solo che mancano sei partiti alla fine Ci ho voglia di far bene, di continuare a lottare per questa maglia Ma soprattutto per raggiungere un obiettivo importante per questa società Venerdì è stato un triste anniversario Perché sono stati cinque anni dalla morte di Per Mario Morosini Che tu conoscevi molto bene, che presumo tu porti nel cuore Dicevi prima, corro per la SPAL, corro per questi colori Ma corri anche per lui? Ah, questo sicuramente Ormai ogni giorno porto sempre nel cuore perché ne parlo Perché fa piacere ricordarlo E voglio ringraziare, visto che hai colto l'occasione, la SPAL e la squadra Che grazie alle loro iniziative con maglie, pantaloncini, palloni, cagliardetto, qualsiasi cosa Ci mettono a disposizione per cercare di darci una mano per vendere, sai, sul sito di Morosini Così con i soldi che riceviamo Prendiamo dei rifibrillatori che uno l'abbiamo consegnato anche qui a Ferrara E prossimamente le consegneremo degli altri Quindi andiamo avanti con questa iniziativa Ma soprattutto ricordiamo Mario ogni giorno, ogni mese Ma soprattutto al suo anniversario Ho visto che il calcio si è mosso e non l'ha dimenticato E questa è una cosa bella E questa è una cosa bella